Parco commerciale alle porte della città. Se ne discute in modo polemico e animato da mesi, anche se i progetti in ballo, quello di S2 e dell'Abiatense BCS, sono stati presentati già da diversi anni. I cittadini di Abbiategrasso si dividono e i commercianti li abbiamo raggiunti per avere anche il loro punto di vista. Assolutamente siamo contrari e dobbiamo sicuramente manifestare il nostro dissenso per questo progetto che andrà comunque a cambiare tutto quello che è la struttura commerciale della nostra città. Sicuramente questi grandi insediamenti commerciali deturperanno il paesaggio. Spero vivamente che questa consapevolezza lo sia per tutti i commercianti. Siamo totalmente contrari a queste cose anche perché sono dal 1993 che noi combattiamo. Io e mio marito siamo stati i primi firmatari a porci a questa idea di città satellite che ad Abbiategrasso non esiste. È un articolo che era apparso sulla libertà nel 1993 dove l'avvocato Cartasegna ha trovato sull'arena di Pola questo articolo bellissimo dove veniva paragonata a Abbiategrasso a una piccola avignone. Ne ha fatto una città dove vivere bene. Sono stati fatti anche dei sondaggi, sono in netto calo e ormai là dove ci sono cominciano a perdere anche peso e potenza di commerciale. Quindi naturalmente sono contrario a questa cosa. Abbiategrasso non ha bisogno di un centro commerciale, semmai ha bisogno di rafforzare quello che è il centro commerciale naturale. Oltretutto siamo in piena emergenza climatica e la nostra giunta che cosa fa? Vuole fare una colata di cemento. Quello che è preoccupante è una giunta che sta facendo l'interesse di chi? Non abbiamo bisogno di un parco commerciale. È già un parco commerciale il nostro. È un bellissimo parco commerciale all'aperto. Non abbiamo bisogno di scatole di cemento. Io direi al nostro sindaco di pensare a noi, cercare di valorizzare e promuovere quello che c'è e che siamo veramente tanti. Lì avrebbero fuori alla fine un 10 partite IVA. Qua siamo 300 quasi. Quello che vedo è una cementificazione spropositata, non utile, non richiesta. Con una serie di appartamenti porterà sicuramente traffico e inquinamento. Però questo sembra piacere molto perché la cosa forse più importante è poter comprare tante cose a basso prezzo e le conseguenze di tutto questo non gliene frega niente a nessuno.